Buongiorno bellezze dal vostro materico, seconda parte della video guida alla rigenerazione, nella prima parte vi ho spiegato i principi teorici da seguire per poter poi creare una resistenza corretta ed ecco che in questa seconda parte abbiamo la parte 2 pratica, quindi in questa parte vi farò vedere come si rigenera, cioè qual è la parte pratica operativa insomma con cui creare una coil, i fili da scegliere, il senso dei fili scelti, perché abbiamo scelto quei fili, come bisogna procedere, a che cosa stare attenti in fase di rigenerazione, l'inserimento del cotone, quindi insomma tutta la parte più di lavoro quando bisogna sporcarsi le mani, ecco questa è la parte che fa per voi, quindi transizione, guardate l'efficacia, questo qui è un editor video potentissimo, ok? Allora cazzate a parte, ecco ho già predisposto i diversi fili che potreste trovare o che potrebbero tornarvi utili per rigenerare, una delle prime domande infatti dei neofiti quando vogliono appunto passare alla rigenerazione scelgono l'atomizzatore poi però sui fili non sanno bene che pesci pigliare, non sanno bene che cosa cambi da un filo a un altro, giustamente, quindi ecco che qui vi spiegherò la differenza tra i diversi fili, allora ve li ho messi in ordine di misura, come ho specificato prima nel video precedente i gauge, misura sistema imperiale, misura anglosassone, secondo me pessima, vanno al contrario, cioè all'aumentare dei gauge diminuisce il diametro del filo ed ecco perché quindi abbiamo il 32 gauge che corrisponde a 0,2 mm, il 28 gauge che dovrebbe essere più grande in realtà è più piccolo, perché scusate il 28 gauge dovrebbe essere più piccolo del 32 in realtà è più grande perché è uno 0,32 quindi tanto per non incasinarvi con le parole e via dicendo eccolo qui come potete vedere il 32 gauge è uno 0,2 il 28 gauge è uno 0,3 ok quindi i gauge diminuiscono e i millimetri aumentano io ovviamente uso i millimetri primo perché l'idea di usare i gauge è una novità degli ultimi tempi ma anni fa si usavano i millimetri seconda cosa perché i millimetri mi sembrano tanto belli sono lineari sono stupendi sono decimali e poi perché il sistema imperiale mi fa cagare detto proprio fuori dai denti quindi se volete rigenerare di guancia ok cioè se volete rigenerare un atom di guancia le misure utilizzate vanno dallo 0,2 mm fino allo 0,32 esistono anche atom di guancia che utilizzano lo 0,4 mi viene in mente per esempio l'ultimo di Inokin quello fatto con con Phil Busardo però diciamo non sono esattamente la norma ma soprattutto sugli atom di guancia vecchio stile come l'Expromiser per esempio lo 0,4 inizia a essere un pochino impegnativo io vi consiglio di rimanere dallo 0,2 allo 0,32 di guancia lo 0,4 è appunto un filo un po' di transizione e come potete vedere allora questo è un filo ok questo è uno 0,2 ok allora metto fuoco questo è uno 0,3 ok 0,32 0,2 si vede anche già che è più sottile quando voi però passiamo allo 0,4 abbiamo a che fare con un filo di questo tipo ok quindi la misura inizia a farsi impegnativa ecco vedete la differenza tra 1,04 e 1,0,32 ecco perché vi dico che lo 0,4 secondo me inizia a essere un pochino impegnativo sugli atom di guancia per quanto comunque non sia impossibile da utilizzare dallo 0,4 in su passiamo ai fili di polmone cioè per atom di polmone quindi abbiamo lo 0,4 lo 0,5 lo 0,6 oltre lo 0,6 non sono mai andato comunque c'è anche chi utilizza lo 0,7 per esempio in termini di gauge stiamo parlando del 26 gauge 0,4 24 gauge 0,5 che in questo caso non ho con bobina UD questo qui è uno 0,5 lo 0,5 inizia a essere grosso inizia a essere grossetto proprio ok questo è uno 0,5 comunque anche il suono se sentite è molto secco per la grossezza e poi c'è lo 0,6 io oltre lo 0,6 non vado lo 0,6 è una spada praticamente cioè se vi bucate con questo tirate giù tanti di quei santi che metà bastano molto potente questo molto difficile anche da spiralizzare cioè rigido oppone resistenza questo comunque che sto utilizzando cioè questo che vi ho fatto vedere è sempre Cantal Cantal A1 allora il Cantal è una lega una lega praticamente è ferro, cromo e alluminio e è il filo più utilizzato per la rigenerazione in modalità vari watt o power quindi non in controllo temperatura altrimenti rispetto al Cantal si potrebbe utilizzare anche il Nicrom io però preferisco il Cantal se invece vogliamo passare alla rigenerazione per controllo temperatura si può utilizzare l'acciaio inossidabile SS quindi stainless steel 316L anche il 304 e il 317 vanno bene ma il 316 è quello che troverete più diffusamente si può utilizzare il nickel 200 oppure si può utilizzare anche il titanio 01 e il nife 48 cioè il nickel ferro come potete vedere dalla ripresa qui eccoli qua gli altri due materiali sono titanio 01 e nife 48 attenzione però che solamente il nife 48 e il 316L l'acciaio 316L sono utilizzabili anche in modalità vari watt quindi SS e nife 48 li potete usare sia in modalità power sia in controllo temperatura invece il titanio 01 e il nickel 200 assolutamente assolutamente vedete vanno utilizzati in modalità controllo temperatura e non vanno draibernati cioè non vanno mai arrossati a secco ok non vanno mai scaldati a vuoto assolutamente perché vi producono ossidi cancerogeni che insomma sarebbe meglio evitare oltre ai fili semplici che sono questi che vi ho appena fatto vedere esistono anche i fili complessi il primo dei quali è assolutamente il klepton wire ok il filo klepton filo klepton che è costituito sostanzialmente da un filo che fa da anima o core e un filo che fa da rivestimento o wrap ed è un filo tendenzialmente più sottile quindi qui vedete che abbiamo un'anima di 0,4 con un wrap di 0,25 ok l'aspetto del filo klepton è sostanzialmente come una corda di chitarra da cui anche il nome ok quindi eccolo qui questo è un filo kleptonato spero che si veda abbastanza eccolo qui questo è un filo klepton si possono vedere tutte le gli avvolgimenti del filo esterno e l'aspetto è quello di una corda di chitarra in questo caso è un klepton fatto con acciaio 316 L lo uso per il controllo temperatura oltre al klepton ci sono altri fili complessi che sostanzialmente sono una sorta di derivazioni di questa modalità di filo come per esempio il filo fused che è un klepton con due anime ok quindi anziché essere un solo filo avvolto da un altro filo sono due fili avvolti da un filo ok e l'aspetto che otterrete sarà questo ok diventa una specie di rettangolo se vogliamo una fettuccina quasi andando poi spingendosi ancora oltre esistono esiste il filo fused ma avvolto da a sua volta da un filo rettangolare che fa tipo fettuccina eccolo qui questo è un uno di questi di questo una tipologia di questo filo in questo caso c'è la coil che è già fatta ok e volendo comunque includere nei fili complessi anche il twistato ecco a voi un filo twistato questo è un filo che ho fatto io lo vedrete nel prossimo video nella terza parte è sostanzialmente un filo semplice arrotolato su se stesso ok si prende il filo semplice lo si piega a U si fissa il capo della U al mandrino del trapano dall'altra parte con un cacciavite si tiene si tiene tirato il trapano inizia ad avvolgere e il risultato finale è un filo ritorto su se stesso ok quindi questo qui è se vogliamo il più semplice dei fili complessi ok ecco quindi dopo che vi ho fatto vedere tutte queste belle cose di fili eccetera eccetera passiamo alla rigenerazione vera e propria allora sceglierò appunto il deck più semplice di tutti che è quello dell'Expromiser che è un deck simile Kaifun ma prima di tutto vi dico che cosa serve per rigenerare allora gli strumenti di lavoro necessari a rigenerare sono un set di cacciaviti di precisione misura che va da 1 a 3 mm ci sono anche i 3,5 questo qua dovrebbe essere un 3,5 io utilizzo i cacciaviti sia per svitare sia per spiralizzare il filo cioè li uso anche come supporto per la spiralizzazione questi cacciaviti sono nuovi e puliti io li utilizzo come supporto per spiralizzare poi ho un altro set di cacciaviti scassatissimi ve li faccio vedere molto velocemente ecco vedete sono tutti messi male ciao fanno talmente cagare che mi vergogno e li utilizzo per avvitare ok quindi io utilizzo i cacciaviti come supporto per la spiralizzazione non è l'unico modo io però mi trovo bene così ho imparato così e insomma non vedo perché cambiare ecco poi sempre a proposito di cacciaviti ci sono i cacciaviti a brugola ok in questo caso è un cacciavite con punte magnetiche li utilizzo con gli atom di polmone questa è una punta a brugola insomma punta di fatto esagonale ecco ok e la utilizzo per gli atom di polmone con deck velocity come vi ho fatto vedere nella prima parte del video cioè nella parte 1 di tutta la videoguida utilizzo questo perché quello che danno in dotazione di solito fa un po' cagare cioè ho preferito avere un cacciavite dedicato pagato l'esorbitante cifra di 11 euro quindi capirete voi insomma direi che è stato un acquisto assolutamente sensato ma non è strettamente necessario idem il curo coil o universal tool che vi serve per creare le contact coil contact coil che vi farò vedere dopo sono delle resistenze con le spire unite anziché essere separate di fatto stiamo parlando di resistenze come ad esempio questa questa è un contact coil come vedete tutte le spire sono unite ecco spire tutte unite e per unire le spire ci sono tendenzialmente due modi diversi potete unire le spire con il calore quindi attivando la resistenza mentre è già posizionata sul deck oppure potete farlo meccanicamente con l'aggeggino in questione ok quindi questo era un ulteriore strumento simil cacciavite che potrebbe tornarvi utile passando invece agli strumenti diciamo più strettamente necessari oltre ai cacciaviti ovviamente abbiamo le pinze che possono essere ceramiche o pinzette da ciglia metalliche ringrazio svapo queen ringrazio la milena di svapo queen per avermi fatto notare un errore molto molto grave che ho fatto nella prima versione del video e che ora vi specifico allora le pinzette vi servono per varie cose per prendere per tirare eccetera vi possono servire anche per fare le contact coil che vi ho appena spiegato e vi ho appena fatto vedere attenzione però che se usate le pinzette metalliche per fare le contact coil siccome per realizzare la contact dovete scaldare il filo e per scaldarlo praticamente lo accendete premendo il tasto di erogazione non toccate mai la coil con le pinze metalliche mentre state erogando quindi mi raccomando stringete la coil con le pinze metalliche solo dopo che avete tolto il tasto il dito dal tasto di attivazione altrimenti vi prendete un tirone uno scossone che non è assolutamente piacevole se invece volete lavorare mentre state erogando così la coil è ancora ben calda potete usare le pinzette ceramiche la ceramica non conduce quindi è fattibile attenzione che la ceramica comunque concentra il calore su un determinato punto quindi rischiate di fondere tutto o di deformare la coil se non state attenti quindi pinzette e cacciaviti ve li ho fatti vedere abbiamo poi le cesoie o tronchesini utili per tagliare ogni tipo di filo potrebbero bastare anche la taglia unghie ma va bene soltanto con i fili fino allo 0,32 oltre no quindi tutto sommato conviene comprare una cesoia che vi funziona con tutti quanti i fili infine abbiamo ovviamente un paio di forbici da unghie normalissime per tagliare il cotone ed eventualmente da usare anche come punta per infilare per fare cose varie comunque forbice da unghie è normalissima l'importante è che tagli bene e che non strappi non tiri i fili ovviamente e chiaramente come vi ho appena accennato poi serve anche il cotone idrofilo allora io tendenzialmente utilizzo il Muji cotone organico giapponese potete usare qualunque cotone boh vi piaccia vi capiti a tiro l'importante è che non sia sbiancato con cloro quindi sia sbiancato al massimo a ossigeno e che non abbia sì schifezze varie non abbia rivestimenti sintetici e via dicendo questo perché il cotone veicola il liquido che poi vi andate a inalare e respirare quindi stiamoci attenti ovviamente poi vi servirà anche dell'etanolo assoluto o alcol alimentare che dir si voglia anche se quello alimentare è 95% questo è 100% ma poco cambia alcol comunque per pulire il filo e ovviamente uno scottex con cui eventualmente asciugarvi tamponare e via dicendo questo è tutto lo corrente che vi serve per rigenerare allora vediamo un attimo di passare alla parte più operativa quindi abbiamo il deck dell'expromiser vi faccio vedere come si spiralizza il filo per un atom di guancia in realtà la spiralizzazione avviene sempre nello stesso modo quello che cambia è il diametro della punta il diametro del filo e eventualmente il numero di spire allora per l'expromiser che è un atom di guancia e lo capite dagli elementi che vi ho descritto nella parte teorica quindi nella prima parte utilizzo 1.0.32 28 gauge cantal A1 non mi interessa farlo andare in controllo temperatura quindi posso utilizzare anche il filo in cantal il cantal attenzione non va in controllo temperatura ho dimenticato di dirvelo prima il cantal solo in modalità power mentre nickel e titanio solo in modalità controllo temperatura allora prendo come misura tendenzialmente utilizzo le mie quattro dita e un po' di più ok questa è la misura che uso di solito come standard allora prendo le mie cesoie o tronchesino vado a tagliare attenzione non amputatevi un dito come consiglio vi dico già di tenervi fermo il filo perché tende a saltare quando lo tagliate quindi se ce l'avete già fermo è meglio tenendo ovviamente fermo con la punta delle dita il capo di filo che vi sporge andate a chiudere ve lo dico perché le bobine sono stronze tendono a srotolarsi quando la bobina si sbobina soccazzi anche lì vengono giù madonne come come in tante altre situazioni pratiche che potrebbero presentarsi nello svapo se non sapete cosa state facendo allora cosa faccio adesso raddrizzo il filo utilizzando le unghie ok tirando e passaggio importante che non tutti fanno ma che io vi consiglio a riguardo ringrazio il buon lord byron 77 che per primo ha iniziato a diffondere questo concetto perlomeno sui social io mi sono accodato subito dopo perché ho visto che il messaggio non veniva recepito allora prendete il vostro scottex prendete il vostro etanolo assoluto ringrazio la miriam per questo allora tappate un colpetto veloce ok più che sufficiente per quello che dovete fare chiudete mettete via mi raccomando chiudere sempre tutto prendete il vostro filo ok lo prendete da un capo e lo tirate in mezzo all'alcol fino quando non fischia ecco questo è il suono che deve fare residui non mi sembra che ce ne siano ma è sempre meglio pulire ok a questo punto sappiamo che il filo è stato ragionevolmente pulito da residui di lavorazione oli meccanici anche il grasso delle mani e via dicendo tutte cose che alterano il sapore prendo quindi una punta adeguata com'è che è adeguata allora siccome le punte che si utilizzano nello svapo vanno dalla 2 mm fino al massimo diciamo alla 3 e mezzo 4 le punte più sottili vanno bene per gli atom di guancia quindi 2 e 2 e mezzo sono indicate per gli atom di guancia io prendo la punta da 2 e mezzo e per spiralizzare ora vi faccio vedere come si fa allora dovete posizionare la resistenza il filo scusate a un tot dal primo capo ok questo pezzettino che rimane fuori sarà la vostra gambina le gambine le ho spiegate nella prima parte della videoguida ad ogni modo sono quel pezzo che collega la bobinatura vera e propria con il polo o capo a cui fissare la resistenza allora fate così io rigenero avvolgendo con la sinistra se voi usate la destra dovete invertire il tutto comunque vi fissate con il pollice ok tenete fermo il filo e tenendo anche l'altro capo ben saldamente iniziate a spiralizzare ok quindi tirate bene il filo aderente alla punta e iniziate a spiralizzare 3 4 5 a questo punto mi sta scivolando quindi vi fermate tenetevelo fermo con l'indice lo riprendete 6 1 2 3 4 5 6 ok a questo punto avete la vostra resistenza più o meno abbozzata accennata eccola qui direi che si vede piuttosto bene non è male ma non è ancora prontissima allora cosa si fa tirate tirate bene anche il capo che sporge in modo da farlo ben aderente e a questo punto spingete e comprimete contro l'innesto della punta sul cacciavite ecco perché io uso i cacciaviti ok vedete che a questo punto le spire sono sicuramente più regolari e più ravvicinate questa coil è direi già pronta per essere montata una cosa importante che dovete verificare è sempre la direzione delle gambine allora in base a come sono posizionati i poli le gambine possono andare o verso direzioni opposte come avviene adesso oppure nella stessa direzione come nel caso del deck velocity che vi ho mostrato nella prima parte del video un altro passaggio importante quando andate a fissare la coil è tenere le gambe nella direzione che vi riduce al massimo la lunghezza delle gambine stesse mi spiego meglio allora se voi montate la coil la resistenza con le gambine che vanno sbucano diciamo verso il basso ok verso il basso la distanza tra il polo e la prima spira si fa minima se invece girate ok e quindi la resistenza va verso l'alto ovviamente servirà ci sarà un tragitto maggiore per per arrivare alla coil quindi quello che io vi consiglio è di tenere la resistenza con le spire con le gambine che puntano verso il basso e angolarla a 45 gradi per avvicinarla il più possibile al polo perché le gambine devono essere più corte possibile dato che sono filo resistivo che si accende ma che non vaporizza è tutto filo diciamo sia sprecato sia dannoso perché noi non vogliamo che ci siano pezzi di filo che si scaldano a vuoto ok a questo punto ovviamente dovete allentare le viti cosa che avevo già fatto prima se non sbaglio se non l'ho fatto lo faccio adesso e dovete appoggiarvi con la coil sul foro dell'aria in modo da stare ben stabili con il vostro cacciavite e dovete girare il filo intorno ai poli allora io di solito faccio così e poi me lo passo sul pollice e tengo premuto ok in questo modo cacciavite andate a fissare il polo stringete e questo è fatto vedete che ovviamente anche il cacciavite rimane abbastanza in posizione ok a questo punto girate di nuovo infilate e andate a fare lo stesso lavoro sull'altro capo vedete vedete allora adesso questo capo è un pochino corto vedete quindi qual è l'importanza di avere una gambina lunga adeguatamente ora ce l'ho comunque fatta però diciamo ho rischiato ok bene a questo punto quindi avete la vostra coil fissata e le gambine che sono state state appunto ripiegate e le avete utilizzate per bloccare cosa bisogna fare allora innanzitutto non temete per la deformazione del filo il filo è resistente cioè non dovete smanacciarlo troppo ma comunque resiste alle sollecitazioni la prima cosa da fare è sollevarlo dal foro dell'aria ok quindi delicatamente lo sollevate dal foro dell'aria ok e verificate guardandolo in questa direzione direi che ci siamo un'ulteriore cosa da fare è quindi cercare di tenere le gambine il più possibile separate dalle torrette perché poi andranno tagliate infine dovete raddrizzare la coil eventualmente e su questo ci sono diciamo diverse teorie cioè c'è chi preferisce avere la coil che anziché inclinata così è dritta cioè perpendicolare alle torrette altri che invece la tengono inclinata e utilizzano poi il metodo AS per mettere giù il cotone sono diverse teorie comunque nel caso in cui vogliate raddrizzarla infilate di nuovo il cacciavite e molto delicatamente andate a torcere la coil attenzione a non far stringere troppo le spire perché ovviamente nel ruotare le spire tendono ad avvicinarsi ok ok poi potete ovviamente anche tirare verso di voi per centrare la coil l'importante è che sia il più possibile sopra il foro dell'aria ok questo è un passaggio importante direi che sì ci siamo ci siamo ci siamo l'immagine è un po' scura ma ci siamo ok a questo punto quindi quello che potete fare è verificare la lettura degli ohm che vi sono usciti siamo a 1 ohm e 13 allora non ho verificato con steam engine se sia corretto ma per esperienza vi dico che ci siamo abbastanza impostate una potenza minima ok quindi abbasso i watt li abbasso anche a 11 va bene e procedete ad attivare ovviamente attenzione che l'attivazione si può fare solamente con i materiali che vi ho detto quindi cantal acciaio e nife 48 fa un filo di fumo che è comunque il grasso che ho lasciato giù quello che è insomma il filo difficilmente sarà eccolo qua vedete quindi che la coil è sufficiente portarla appena appena al rosso ecco più che sufficiente per controllare che si attivi bene già il giallo sarebbe un po' troppo a questo punto provvedete dopo aver scaldato a fissare di nuovo i poli nel caso ce ne fosse bisogno perché potrebbero in seguito al riscaldamento tendenzialmente allentarsi un attimo ok ricontrollate la lettura 1.13 a posto e potete provvedere a tagliare le gambine ok ed ecco dove le cesoie tornano utili come vi dicevo allora avendo la punta angolata vi permettono di tagliare a bordo senza diventare stronzi con posizionamenti strani 1 e 2 a posto quindi fin qui ci siamo è ora giunto il momento del cotone ok allora cotone prendete il vostro pezzettino di cotone il vostro pad il vostro batuffolo poi a seconda di quello che andate a utilizzare e provvedete a tagliare ok quindi le forbici che vi ho detto prima tagliate una quantità di cotone una larghezza adeguata con la coil che state facendo per questo andate a occhio vediamo un po' se così mi può bastare spero di sì e io di solito una volta che ho fatto questo provvedo a mano lavatevi sempre le mani prima di fare tutto provvedo a tirare leggermente il cotone ok dopodiché provvedo a fare il bigolino eccolo qua questo è il bigolino che poi vado a inserire quindi com'è che fate bisogna stringere il cotone in modo da fargli una piccola punta e andate a infilarlo all'interno questo è un passaggio molto molto importante che tendenzialmente rischia di fare fare danni insomma se non sapete come farlo è uno tra i passaggi che più impanicano nella rigenerazione comunque si tratta di infilare la punta del cotone ecco la infilate all'interno e andate poi a prendere il capo dall'altra parte e a tirare ok dovete ovviamente posizionare bene il cotone a aiutarlo a entrare allora dov'è che quando è che ci si ferma quando è che va bene allora il cotone deve aderire bene a tutte le spire ciò significa che deve essere libero di muoversi quindi non deve essere intoppato a merda dentro alla alla coil ma non deve neanche scivolarci dentro l'effetto finale che vi più o meno empiricamente vi conferma che avete fatto bene è l'effetto un po' sgonfiottone effetto baffo che deriva alla fine dal dal buon posizionamento vedete bene che quindi adesso allora la coil non è la migliore del mondo ma non fa neanche così cagare assolutamente è una spire separate uscita abbastanza bene a questo punto quindi tagliate di nuovo con le vostre forbici andate a tagliare l'eccesso di cotone ok allora l'eccesso di cotone lo misurate tendenzialmente guardando come è il deck il cotone deve alloggiare sul deck quindi arrivati alla filettatura tendenzialmente si può anche tagliare quindi grosso modo lo tagliate a questa altezza in modo che poi una volta ripiegato possa toccare tendenzialmente o sfiorare il deck direi che così può andare bene stessa cosa dall'altra parte ok stessa cosa dall'altra parte quindi tagliamo circa qui ok e tendenzialmente ci siamo perfetto un'altra cosa importante da fare è quella di sfilacciare il cotone perché ne aumenta le proprietà assorbenti quindi potete usare una qualunque un qualunque tipo di punta andate praticamente a sfibrare il cotone ok non molto non serve fare grandi cose uno e due ecco fatto benissimo quindi a questo punto abbiamo la nostra coil più o meno predisposta vi è sufficiente ora bagnare il cotone ok potenzialmente adesso utilizzerò un imperial D2B quello che ho preparato in diretta nel video dove vi faccio vedere come ci si prepara i liquidi siringa ne tiro su un pochino giusto per bagnare il cotone questa è l'operazione che vado a fare adesso e dovete tendenzialmente bagnare il cotone con qualche goccina di liquido questo vi aiuterà a posizionarlo bene e poi a far partire tutta la baracca ed ecco fatto tiro su tutti i peluchini lo alloggio per bene e ovviamente a cotone bagnato tutta l'operazione risulta molto più agevole ecco fatto a questo punto ok ho buttato dentro il boccino l'eccesso che avevo nella siringa a questo punto potete provvedere ad attivare attivare significa semplicemente dare erogazione mentre soffiate per non far surriscaldare tutto vedete serve per controllare che tutto funzioni a modo direi che tutto funziona come deve quindi a questo punto la rigenerazione è completata possiamo chiudere l'atom quindi prendere il tank eccolo qua prendo il mio tank chiudete l'atom ah scusate errore madornale che stavo per compiere ovviamente dovete mettere il cap cioè la campana di atomizzazione altrimenti rischiate di fare un danno questo è un tipico errore di distrazione allora nel mettere il cap ora vi faccio vedere ecco dovete tendenzialmente stare attenti a non pizzicare il cotone all'interno delle filettature ok quindi andate con molta delicatezza io di solito giro al contrario in modo da prendere la filettatura dopodiché avvito potete fare un ultimo check guardando da sopra ok potete fare così controllate che sia tutto a posto direi che è tutto a posto e posso provvedere a chiudere ok quindi ora vi farò anche vedere come si fa a fare una contact coil intanto chiudo ok mi faccio anche una svapata per controllare che funzioni tutto e anche perché sono un po' esaudito ma direi che il funzionamento è ottimo sto svapando a 11 watt è una potenza adeguata sia per il valore in ohm che ho ottenuto che è una conseguenza del filo utilizzato e del numero di spire e quindi posso andare avanti con l'altra rigenerazione che volevo farvi vedere ok bene vanno le ciance che qui abbiamo da fare nel frattempo posso anche spostare il filo così il foglio scusate così evito di fare pastrocchi molto bene e abbiamo il nostro tappettino fantasy allora bene seconda cosa che volevo farvi vedere allora la contact coil come si fa una contact coil allora avete principalmente due metodi per fare una contact il primo metodo è quello di sostanzialmente utilizzare il riscaldare riscaldare il deck ok ora vi mostro come si fa allora tendenzialmente immaginiamo di avere il nostro il nostro filo anzi non immaginiamolo usiamolo proprio il nostro 26 gauge ok ora andrò rapido perché mi serve solo per farvelo vedere senza poi in realtà adoperarlo quindi come al solito radrizzo faccio prendo taglio occhio sempre a non amputarsi le dita ok occhio a non sbobinare tutto molto bene ok prendete il vostro filo oh dove è finito ma che cazzo il bello della diretta magari ce l'ho sotto gli occhi magari lo state vedendo voi ma non vedo io dove è finito il mio pezzo di filo vabbè che cazzo siccome non posso farvi aspettare lo riprendo ah ok trovato perfetto eh vabbè perdonate la diretta ma è un video è un video grezzo è un video senza post produzione e quindi vabbè allora come al solito lo spiralizziamo scelgo una punta un attimo più grossa quindi punta da tre fate le vostre spire il più possibile una vicino all'altra per quanto per quanto vi insomma vi sia possibile fare ecco ok come sempre regolarizzate il tutto ma questo non è il passaggio veramente importante ok eventualmente aiutatevi con le pinzette per tirare bene aderente il capo che sforge è importante che aderisca molto bene al filo al scusate al cacciavite quando volete fare una contact con questa modalità che ora vi mostro e quindi potete provvedere a fissare la resistenza all'atomizzatore in questo caso utilizzerò un deck velocity così vi mostro come funziona ok allora questo è un aromamizer supreme che ha un funzionamento un po' strano ecco perché ho dovuto mettere prima il fondello e dopo tutto il resto ok a posto allora come vi dicevo nella prima parte del video il deck velocity è predisposto per le dual coil in maniera piuttosto piuttosto comoda allora ora questa resistenza è assolutamente inadeguata in termini di diametro per poter essere utilizzata su un deck velocity ne approfitto per insegnarvi anche questa cosa allora il diametro cioè la larghezza della coil nel senso da dove a dove deve andare deve essere il più possibile simile alla lunghezza del alla larghezza tra le due torrette ok altrimenti c'è il rischio che la coil vi si apra praticamente e venga fuori una mezza cagata ecco allora deck velocity quindi si va a inserire una gambina la gambina più in basso quella che esce più in basso nel foro in basso e la gambina che esce in alto ovviamente nel foro in alto ok allora non è abbastanza svitato ecco perché allora in questo caso ci armiamo di cacciavite per brugole andiamo a prendere la nostra punta a brugola ok e andiamo a svitare ok direi che siamo a posto posso inserire quindi come vi stavo dicendo uno ok a posto ce l'abbiamo fatta bene come vedete la larghezza sarebbe teoricamente abbastanza adatta ma siccome ora andrò a stringere potrebbe non risultare più così adatta il fissaggio ovviamente lo fate in questo modo e poi andate a serrare i grani ok serrate il primo vi girate posizionate in maniera corretta e serrate il secondo ok distanziate dalle torrette è importante vale anche per l'expromiser ovviamente la resistenza non deve assolutamente toccare non deve toccare nessun modo in nessun modo le parti metalliche che costituiscono l'atomizzatore a eccezione ovviamente delle torrette dove la fissate bene allora a questo punto se volete creare una contact coil dovete praticamente stringere la resistenza dopo che l'avete scaldata o mentre la state scaldando ripeto se volete farlo mentre la state scaldando non utilizzate le pinzette metalliche ok allora procediamo mi giro di qua accendo ovviamente qua fa molto più fumo perché non ho pulito il filo ok e a questo punto dovreste operare stringendo la resistenza a colpettini il problema è che nel farlo c'è il concreto rischio che praticamente vi si deformi la resistenza stessa ok potrebbe deformarsi perché ovviamente è soprattutto con il deck velocity è sollecitata in malo modo vedete che si sta già deformando quindi praticamente dovreste provvedere a raddrizzarla via via ripeto questa coil non va assolutamente bene per quello che voglio fare l'ho fatta in velocità giusto per mostrarvi il concetto la realizzazione pratica in realtà per una contact coil io la delego al curo coil ok quindi dovete scaldare e stringere ma in questo caso non c'è modo di di non c'è modo di farcela senza deformare tutto ok quindi vedete questo è il rischio più concreto che rischiate di avere nel momento in cui volete fare una contact coil ma avete sbagliato qualcosa vedete che quindi avete le spire che si deformano questo non deve assolutamente succedere non deve succedere anche perché il risultato finale di una contact fatta bene è praticamente questo e questo l'ho fatto con il curo coil capite bene quindi che c'è una certa differenza ora vi faccio vedere quindi come funziona il curo coil lasciando perdere questo misero tentativo di contact coil fatto con la pinzetta tentativo che comunque non avevo intenzione di percorrere in questo modo quindi ci sta che abbia fatto abbastanza schifo prendo il curo coil e vi faccio vedere come funziona l'aggeggio sostanzialmente avete un corpo avete un pezzo sopra da mettere con il diametro delle diverse misure che praticamente costituiscono la vostra punta avete una serie di punte in questo caso posso utilizzare la punta da due e mezzo ok dovete inserirla dovete prendere il vostro pezzetto di filo lo raddrizzate come al solito ok tagliate e inserite e inserite si tratta molto 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 semplicemente di inserire il filo all'interno del foro dedicato lo inserite all'interno così lo mandate su lo tenete fermo col pollice ok a questo punto prendete il suo cappellino con la misura giusta in questo caso è una punta da due e mezzo e dovete posizionare il cilindrettino in modo da trascinare il filo e a questo punto non dovete fare altro che iniziare a girare stando morbidi cioè senza premere contro la base così lo girate come viene viene lasciandolo morbido perché altrimenti rischiate di deformare tutte le spire ed ecco che come già potete vedere ok avete modo di ottenere una contact una contact coil pressoché perfetta senza rischiare di deformare tutto con le pinze e via dicendo ecco fatto quindi vi ho fatto anche vedere come funziona il curo coil non ho un deck postless quindi non posso farvi vedere come si opera su un deck postless ma sostanzialmente la cosa a cui dovete prestare attenzione con i deck postless è quella di avere le due gambine che siano alla stessa lunghezza ok quindi le due gambine devono essere a pari lunghezza e dovete assolutamente andiamo un attimo bene meglio avete bisogno di avere due gambe alla stessa lunghezza con i deck postless e la lunghezza delle gambe deve essere giusta affinché l'altezza della coil sia corretta per il posizionamento ora a proposito di lunghezza e altezza della coil vi mostro un po' di cose importantissime allora vado a montare vado a montare questa resistenza sul deck del tornado quindi mi attrezzo sempre con le mie belle punte voglio spiegarvi praticamente il discorso del l'OMT ovvero lento obliquo massiccio e turbolento allora il l'OMT è una un acronimo una regola se vogliamo che è nata da svapo academy il gruppo di facebook in cui sono iscritto in cui sono iscritto e bisogna dobbiamo svitare qua è tutto a posto perfetto allora il l'OMT riguarda praticamente il flusso dell'aria ovvero il flusso dell'aria deve essere il più possibile lento obliquo massiccio e turbolento questo se vogliamo massimizzare la resa aromatica conseguente dal nostro sistema un sistema configurato senza rispettare il l'OMT può tranquillamente cambiare la resa così tanto da passare ad esempio da ottimo o da molto buono a mediocre o normale allora vado comunque a fissare la mia coil che avevo prodotto vediamo eventualmente vi faccio vedere quale può essere l'errore che vi dicevo di quando la coil si apre a ventaglio se non è abbastanza larga ok allora vedete adesso zoom molto bene allora io adesso sto posizionando questa coil ma se la coil dovesse essere più stretta della distanza tra le torrette ovviamente otterrei l'apertura a ventaglio della coil un pochino succede sempre l'importante è che non sia una cosa drammatica dico che succede sempre perché per come sono progettati gli atom ovviamente non potete avere cioè c'è sempre un piccolo margine entro cui la coil si allarga l'importante ecco vedete che tende un po' a curvarsi l'importante è che non sia una cosa drammatica ora vi spiego il discorso dell'ompt quindi devo passare al posizionamento della coil usate sempre un supporto per tenere il più dritto possibile e quindi passate all'inserimento ok aiutatevi ovviamente tirando allora com'è che va posizionata la coil la coil va posizionata in modo che rispetto ai fori dell'aria sia abbastanza alta o abbastanza bassa seconda da essere correttamente investita dal flusso dell'aria ok ricordatevi che non è vero che più è vicino all'aria più viene investito dipende perché l'aria comunque esce fuori a imbuto ricordatevi di questa cosa inoltre deve essere il più possibile lento il flusso dell'aria quindi non ha senso metterlo attaccato che si becca il flusso in velocità è meglio che sia distanziato così da avere un flusso d'aria rallentato nei confronti della coil inoltre deve essere obliquo deve essere obliquo quindi in questo caso dato che l'aria arriva da sotto e deve andare verso l'alto dove ci sarà il tip più io avvicino la coil alle torrette più il flusso d'aria che investe la coil stessa sarà turbolento cioè scusate sarà obliquo perché ovviamente la direzione sarà da qui verso il centro quindi se io riesco a posizionare la coil in modo da tenerla vicino alle torrette ho realizzato comunque il setup corretto ecco quindi deve essere il flusso d'aria deve essere lento quindi distanziatelo abbastanza dai fori dell'aria il giusto ovviamente non troppo né troppo poco deve essere obliquo quindi avvicinatelo alle torrette se l'aria arriva da sotto deve essere massiccio e questo ci pensa alla struttura dell'atom deve essere turbolento e anche questo ci pensa alla struttura dell'atom bene quindi riguardo alla rigenerazione direi che vi ho detto pressoché tutto il cotone in questo caso per esempio va messo con i baffi che vanno in giù non come quindi come ho fatto sull'expromiser bensì inserendo il cotone così come ho inserito il cacciavite e poi ripiegando i baffi all'ingiù e posizionandoli all'interno degli angoli però ecco vabbè diciamo è una cosa piuttosto intuitiva secondo me quindi non ho strettamente bisogno di farvelo vedere ok comunque era bene dirvelo e niente quindi direi che questa seconda parte è conclusa posso mandarvi cioè posso salutarvi e mandarvi alla terza parte non volevo dire mandarvi a fanculo state tranquilli vi rimando alla terza parte dove twisto il filo e faccio vedere una parte di controllo temperatura e vi saluto ovviamente anche anche quello nella terza parte quindi per il momento io vado avanti a fissare e quando il video si bloccherà si bloccherà nel frattempo mi faccio i cazzi miei fissando l'atom scusate fissando la resistenza che poi andrò a svapparmi perché comunque tutta sta roba che sto facendo vedere mi serve anche perché sono un po' a secco con le rigenerazioni ecco tutto quindi ecco già che ci sono comunque se ce la faccio vedete solito bigolino solita punta solito inserimento dopodiché ora in questo caso è troppo poco il cotone ma poi lo andate a posizionare in giù così all'interno degli appositi alloggi del cotone e potete aiutarvi con forbici o con le pinzette vedete potete fare così l'importante è sempre sfilacciare il cotone ok dopodiché provvedete a posizionarlo all'interno del suo alloggiamento così e così anche dall'altra parte va bene ok ci vediamo nella prossima parte del video ok ragazzi ecco posizionato allargate non deve toccare non deve bloccare il flusso dell'aria e così viene posizionato su un deck velocity va bene ciao bellezze ci vediamo dopo ciao 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 ciao